signorina scusi oh madame di un fax si so che siamo in comune però è una roba un po' urgente grazie un fax non due come pensa che io un fax non due non li manderei un fax non due per le pratiche mie un fax non due non ce n'è bisogno non ce n'è bisogno non ce n'è bisogno non ce n'è bisogno perché vuole farmi pagare ho già pagato il consorzio agrario perché vuole farmi firmare non ce n'è bisogno 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 non fammene pagare due no no un fax non due mi confonde lei un fax non due se lo tenga lei un fax non due lei che sta sulle sue un fax non due non ce n'è bisogno 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 No, no